Noi abbiamo detto in maniera molto chiara che la delegazione italiana voterà a scheda aperta senza entrare dietro la cabina, di ripararsi dietro una tendina, voteremo in maniera chiara per la Fonderline, l'abbiamo detto e ripetuto, quindi la posizione della delegazione di Forza Italia è molto chiara. È priorità di essere un Green Deal fatto a misura d'uomo, a misura dell'impresa, a misura dell'industria, a misura dello sviluppo, quello che è mancato nella scorsa legislatura. Forza Italia ha scelto commissioni importanti in cui è presente con un numero considerevole di parlamentari, quindi abbiamo presidiato la commissione industria, la commissione agricoltura, la commissione economica, quindi abbiamo scelto di essere presenti nei settori che poi interessano il nostro paese.